Ragazzi eccoci ancora qua, siamo qua, ci sono quelli della notte che girano, che stanno tornando dai locali, come questa bella ragazza che si chiama Lui mi sta prendendo in giro, no no, no no veramente, che si chiama Mariangelo Ludovica Dove sei stata stasera? No niente, ho fatto una cena con dei miei amici E poi sei passata da qui e hai trovato John Wayne E ho trovato lui che è fantastico E lei dice posso cantare una canzone? Come no? Vai, prego Vuoi fare l'accordo? Guarda come canta bene sta ragazza, prego E se o Mari io non potessi rivederete E questa è a direzione che tu non mi piace, 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 per questo, mi piace, 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 mi nemmeno l'ombra della perduta felicità e sei domani e sottorrivi o sei chiediamo scusa per gli accordi all'improvviso bebesi a te avrai perduto il mondo intero questo l'ha azzeccato non solo te adesso la parola ai nostri giudici Arizona bravissima per lei è sì una bella voce proprio brava per lei è sì per lei è 7 e mezzo è il chitarrista salutiamo Mariangela grazie dell'esibizione per Etico La Fiore grazie ciao buona giornata bravo John Way sei stato bravissima non è azzeccato un accordo però tu suoni questa l'hai fatto uguale a due gemelli uguale grazie 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 Grazie.